L'Accademia Internazionale del Musico Londra è un progetto di specializzazione destinato non solo a tutti i nostri diplomati, ma anche ai diplomati di tutte le altre scuole in Italia, chiaramente presto scuole riconosciute, oltre che ai professionisti. È un programma di 10 settimane, sviluppato dal lunedì al giovedì per otto ore al giorno, dove i ragazzi riescono a lavorare con i professionisti del settore, professionisti che hanno già lavorato nei musical, performer che sono impegnati ancora ora nei musical nazionali ed internazionali e che riescono chiaramente a trasmettere la loro esperienza ai nostri allievi. Li chiamiamo nostri perché sono chiaramente assorbiti dentro il gruppo Accademia Internazionale del Musical. Grazie a tutti!